Ciao, namaste. In questa serie di video di filosofia per andare un po' più in profondità nel pensiero dello yoga, abbiamo iniziato parlando degli yoga sutra, quindi quello che il sangio Patanjali ci ha indicato in questo scritto, quelli che sono i vari passaggi dello yoga, qual è l'obiettivo, cosa possiamo raggiungere grazie a questa pratica. Negli yoga sutra Patanjali però ci indica anche nove ostacoli, nove ostacoli che possiamo eventualmente incontrare durante la nostra, nel nostro percorso. Quali sono questi nove ostacoli? Mi ne sono scritti perché con gli elenchi io sono terribile. La prima è la malattia, quindi tra questi ostacoli alcuni sono fisici, ad esempio la malattia, alcuni sono più mentali o psicologici. La malattia ovviamente ci prende tutte le nostre energie fisiche e anche mentali, quindi quello che vogliamo fare è chiaramente focalizzarci immediatamente sul recuperare la nostra salute per poter superare questo ostacolo. Un altro è l'apatia mentale, ovvero siamo totalmente in balia del nostro stato più pigro. ecco, no? Chris Damacharya appunto ha questa frase molto famosa che dice tutti possono fare yoga con successo tranne i pigri. Ed è vero, insomma, diceva anche se puoi respirare puoi fare yoga. Ho parlato in un video precedente dei guna, quindi delle qualità della natura. uno di questi Tama è la qualità che ci porta a essere più apatici, più letargici e quindi se c'è una prevalenza di questo stato, chiaramente, insomma, non abbiamo voglia di rispettare magari la nostra routine, non abbiamo iniziativa, ecco. Un altro ostacolo che ci indica Patangeli è il dubbio, il senso di incertezza, il farci domande del tipo, ma starò facendo la cosa giusta, forse dovrei smettere, forse non è la cosa che fa per me. diciamo, quasi anche cercare di trovare delle autogiustificazioni per non andare avanti, quindi auto-instillarci il dubbio. Un'altra, molto interessante, è l'impazienza, quindi l'impazienza e la fretta di arrivare per qualsiasi aspetto dello yoga. è molto molto palese nella pratica degli asana, no? Quando non si ha la pazienza di iniziare passo a passo, ma si vuole subito provare a fare cose che magari sono un po' più avanzate, per appunto bruciare le tappe, perché non le si comprendono. Un'altra è la rassegnazione, rassegnazione come mancanza di stimolo, di motivazione nel continuare a praticare, a studiare. Io per praticare non intendo solo la pratica degli asana, ma come abbiamo parlato nei video precedenti, anche la pratica del pranayama, della meditazione, dello studio in generale di noi stessi. Quindi ci sentiamo demotivati, non abbiamo appunto lo stimolo per, per quanto riguarda la pratica degli asana, ritornare sempre sul tappetino. Un altro ostacolo è la distrazione, ovvero i nostri sensi prendono il sopravvento. Abbiamo, anche questo, ne abbiamo discusso nei video precedenti, nel nostro percorso, nello yoga, cerchiamo di non riconoscerci con il mondo esterno, ma essere più rivolti al nostro interno, essere meno distratti dai sensi e essere più focalizzati su di noi. Quando pratichiamo, anche se siamo in una classe con 50 persone, dovremmo essere totalmente focalizzati su quello che facciamo noi e anche su quello che stiamo facendo ora noi, perché a volte siamo sì presenti, sì non ci distraiamo guardando le persone intorno, ma la mente viaggia. Quindi vogliamo sempre rimanere attivi e coscienti. L'ignoranza e l'arroganza, cosa interessante, sono un altro ostacolo. L'ignoranza e l'arroganza in che senso? Nel senso di pensare di essere già arrivati. Anche questo è molto facile da esemplificare con la pratica degli asana, perché abbiamo l'arroganza di pensare che se riusciamo a eseguire una determinata serie di posizioni, allora siamo già arrivati. Siamo proprio ormai, nessuno ci deve più insegnare niente. Siamo ormai al di sopra di tutto. E questa è ignoranza, nel senso che non sappiamo che invece riuscire a eseguire una posizione complessa non vuol dire aver terminato, aver portato a conclusione il nostro percorso nello yoga. E arroganza, perché spesso ci comportiamo in modo arrogante con le altre persone, a parte anche con noi stessi, per questa supposta superiorità. L'ottavo ostacolo è, diciamo, connesso al settimo, perché è la delusione. Pensiamo, siamo super arroganti, pensiamo di essere già arrivati, e invece ci rendiamo conto che no, che non siamo arrivati da nessuna parte, e che il percorso è ancora molto lungo. Questo ci può capitare anche con la meditazione, ad esempio. Dopo una sessione di meditazione ci sembra particolarmente ben riuscita, anche se non si dovrebbe parlare di meditazione riuscita o no, non ha senso. Però, diciamo, riusciamo a calmare la nostra mente e ci sembra di essere arrivati. Ci succede qualcos'altro nella vita che ci fa capire che magari è un evento che ci porta a provare un'emozione forte, magari molta rabbia o molta tristezza, e tutta questa calma mentale improvvisamente svanisce. Pensavamo di ormai essere, insomma, ancima alla montagna, e invece no. E quindi questo è un ostacolo, è la delusione. Il nono e ultimo ostacolo è la perdita della fiducia. E anche questo è in conseguenza dei primi due. Quindi scopro che il percorso in verità è ancora lungo, che pensavo di essere arrivato, oppure pensavo che siccome sono arrivato in cima alla montagna, niente mi toccherà mai più, non mi succederanno mai più cose negative, non reagirò mai più male. E quindi perdiamo la fiducia, perdiamo la fiducia nel sistema dello yoga, in noi stessi, nel percorso che stiamo facendo. E questo è anche un altro ostacolo che ci può portare a interrompere il nostro studio, la nostra pratica. Ed è interessante perché sono ostacoli che si possono presentare assieme, magari li incontrerete, magari non li incontrerete. A mio parere li incontriamo più o meno tutti. ed è interessante perché sono già nel Yoga Sutra, quindi il testo di Patanjali è talmente preciso e questo ci fa capire che non è una, diciamo, solo teoria, una teoria che nessuno ha mai messo in pratica, ma è una teoria che è stata messa in pratica e da questa pratica sono venute fuori anche le avvertenze. Guardate che vi possono succedere queste cose. Ovviamente, oltre alle avvertenze, quindi agli ostacoli che possiamo incontrare, Patanjali ha parlato anche di come sorpassare questi ostacoli. Ne ne parleremo nel prossimo video. Namaste.